GF VIP7, Onestini ed Oriana Sudaniele, vede che a te va bene così. Il rapporto fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro prosegue ad essere instabile e ricco di alti e bassi all'interno della casa del grande fratello VIP7. La sugar sudamericana continua a non capire determinati comportamenti dell'imprenditore e, infastidita, ha deciso di parlarne con Luca Onestini. Oriana è apparsa particolarmente amareggiata e ha sottolineato che il coinquilino le ha confessato di considerare gli abbracci di Nikita Pelizzon maggiormente sinceri e sentiti rispetto ai suoi. Ma non è finita qui perché Marzoli ha confidato di essersi sentita stranita anche in seguito al passaggio dell'aereo. Quando, piuttosto che cogliere il messaggio ironico dei fan, Dal Moro ha preferito dare priorità alla vicenda legata alla morte del suo banano. Precedentemente, Oriana aveva deciso di affrontare l'argomento anche con Edoardo Tavassi cercando consigli dal romano. Luca Onestini non si è definito sorpreso in merito alle parole pronunciate da Daniele Dal Moro. L'extronista di Uomini e Donne, piuttosto, si è detto stupito dagli atteggiamenti di Oriana Marzoli perché pur continuando a ribadire di non gradire il modo di fare dell'imprenditore. Continua a cercarlo con l'intento di mantenere la relazione con lui, si vede che a te va bene così. Ha evidenziato il ragazzo emiliano, secondo cui è solamente tempo perso. Non è la prima volta. Non è che c'è tanto da dire, ha detto Luca. Il rapporto con Daniele Dal Moro è un tema che occupa la mente di Oriana Marzoli in maniera perenne. La sudamericana ha parlato della relazione con l'imprenditore anche con Edoardo Tavassi. La sudamericana, amareggiata per come stanno andando le cose, non ha nascosto al romano il proprio malessere. Secondo la showgirl venezuelana, il Veneto non sarebbe più interessato a lei, convinta che Dal Moro non abbia più intenzione di proseguire la loro frequentazione. Il 38enne non si è definito d'accordo con Marzoli e ha tentato di farle valutare la vicenda sotto un altro aspetto. Inoltre, il fratello di Gwendalina ha provato a spiegare ad Oriana che nonostante Daniele provi una forte attrazione nei suoi riguardi, prosegue ad essere particolarmente frenato solamente a causa di quanto successo fra di loro nel passato. Edoardo ha sottolineato con convinzione che Dal Moro non riesce ancora a fidarsi. Secondo il romano, per evitare di precludersi una bella conoscenza con l'imprenditore, Marzoli non dovrebbe scoraggiarsi e comprendere la verità solo alla fine di questa esperienza fuori dalla casa del grande fratello Vip 7. Grazie. 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 Grazie.